È questo tenue tocco di vento che lucida la pelle, l'incertezza della vita, il suo essere un polline di terra, un lampo. I sogni sono i protagonisti di questa raccolta perché ognuno di noi vive sempre a cavallo tra la realtà e il sogno. La vita è una strada che si dirama tra il reale e il possibile. Un viaggio nella dimensione del sogno, spesso inseparabile dalla realtà. Si chiama L'approdo dei sogni, il nuovo libro di Lucrezia Lombardo, uscito per contro l'una edizioni con la prefazione del professor Claudio Santori. La Lucrezia, approfittando del concetto di sogno, penetra proprio nella realtà delle cose, anzi sembra che ricerchi appassionatamente, disperatamente, un senso alle cose. Il libro è stato presentato allo Spazio Seme di Arezzo. A Spazio Seme dal 2015 conduco il cantiere di storie che è la sezione dedicata alla scrittura e non ci siamo mai occupati di poesia, sempre di narrativa. Quindi, vista l'attività di Lucrezia Lombardo, ho pensato di fare questo incontro sul suo ultimo libro che si chiama L'approdo dei sogni, proprio per parlare veramente del fare poesia, dal greco appunto poiein, che significa appunto fare, non tanto immaginare. L'approdo dei sogni si compone di un'ottantina di testi, un vero e proprio inno alla vita. Vuole essere proprio un inno alla fanciullezza, alla dimensione più pura che l'essere umano deve ritrovare dentro di sé, che è la dimensione appunto dell'innocenza, della creatività, della libertà, dell'immaginazione, quel qualcosa che ci salva a maggior ragione in questi tempi di fatica, di sofferenza, di dolore che ci segna nel profondo.